segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te alla storia di un'impresa e sinceramente io mi preoccupo in italia del fatto che ci sia in media un atteggiamento troppo negativo sul capitalismo tanto una parola non si può quasi neanche più utilizzare cioè la questione è la seguente tu devi avere anche se vuoi fare la distribuzione che è una cosa più che sensata fatta con di con attenzione con intelligenza tu stai redistribuendo una torta ma prima la torta devi produrla e questo è fondamentale la torta deve diventare sempre più grossa e questo si chiama produttività questo è il tema importante ed ecco perché ci sono delle esperienze aziendali che devono essere preservate naturalmente la questione è anche di una cosa un po sovranista ma 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 importante noi abbiamo avuto un meccanismo per cui abbiamo comprato meno aziende all'estero rispetto a quante aziende italiane sono state comprate perché questa è una questione che che va detta perché sostanzialmente è più è meno facile contrattare con aziende che vengono fuori ovviamente i capitali sono importanti ma se noi facciamo riferimento a un periodo eccezionale della storia italiana che è il boom degli anni 50 lì avevi un capitalismo privato e poi avevi anche il capitalismo pubblico però i capitali di cui lei riconosce l'importanza nel caso specifico della varsila sono capitali che nel pieno della libertà dicono siamo finlandesi e in finlandia ci torniamo con buona pace di un pezzo della storia industriale che affonda le radici nel 800 del nostro paese ci sono due meccanismi essere realisti purtroppo gli economisti ogni tanto sono sono noiose antipatici nel cercare di essere realisti allora da una parte e qui chiaramente un governo nelle piene funzioni forse avrebbe un'efficacia maggiore c'è un'idea di negoziazione tu hai l'impresa in questo caso varsila a capitali largamente stranieri il anzi totalmente se non vado errato hai dall'altra parte i lavoratori e dall'altra parte il governo e il governo può cercare di fare qualcosa rispetto a convincere l'impresa a rimanere dall'altra parte questa non deve essere una soluzione tipo tampone temporaneo diciamo intervento temporaneo palliativo perché tu devi mantenere delle condizioni tale per cui non sono i capitali italiani vogliono essere investiti qui ma anche i capitali stranieri vogliono essere investiti qui per rimanere perché l'idea è l'investimento di medio lungo termine prima si parlava della cantieristica e delle crociere dall'altra parte abbiamo abbiamo la storia di fincantiere abbiamo msc ma per esempio costa crociere oramai di carnival chiaro in tanti settori potremmo trovare allora professore la fermo la fermo intanto perché dobbiamo andare in pubblicità ma la fermo perché vedo che nel frattempo si è collegato con noi